La cosa che mi ha divertito di più è venire ai Caraibi. Uno vede Massimo Chini così, guardateci bene. Come potete esistere a non andare. I Caraibi ride, si fa una vacanza e passa un'ora e quaranta, una grande allegria. Stiamo capendo dove andare. Andareci a fare la tinta. Perché sono la blonde, io la brunette e la... Vacanze ai Caraibi, perché prima i soldi insegnavano che andava sempre ripetuto il titolo. Vacanze ai Caraibi.